Stupend ball, che volante, finalmente, oh, oh, e che cosa, non si va a fare, non si va a fare, non si va a fare, tranquilla, manchimi la via, ti faccio una volta, oh, 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 oh il vostro nome! Vai! Sono una donna onesta! Ecco mi piace una donna onesta a me! Sono sempre state le mie prete preferite! Io amo la contesa! Oh, un papà lì! Aiutatela! E che va a trovare da chi sta a me! Un papà lì! E sono da donsì! Vai! Con il mio passone! Con il tuo cuore gli amami! Ah, sì! Che vado a trovare dei che fanno? E che fanno? Io lo pigliate! Perché la vita sta a me! E la vita per me! E va! La vita per tutti! La vita per me! Viglia! Siete pazze! Pazze l'amore di te! Oh, margherita! E che cos'è questa confidenza? E poi? Io non sono margherita! Oh, ma di che peccato! E avrei spugnato pedalo sul pedalo! Insomma, basta! Andorò che è andato un pochino! Ora chiamo il mio marito! Ho chiamato il mio marito! Ho chiamato il mio marito! E che cos'è la vita? Ecco! Io volevo essere una piccana! Ma... E? Io a proposito! Cogliamo il mio? Ho chiamato il mio? No, no! Vi servo subito! Io? Ci mi fezzerò! usto adesso, domando! Grisspino! Ripeto! Gli eschi pezzerò! Am learned! Grisspino! Alguriamoci li xe! Grisspino? che bella sorpresa che mi hai fatto per favore si è venuto in casa hai già già volevo dire che ti ho fatto che faccia caro, ti conosci il nostro signore? ehi, come no sei un po' amici di vecchia data frate di latte, zucca in monzie felice, felice vieni ti presento il mio amore non ti presento il mio amore non ti presento il mio amore felice, felice felice, felice ai francesi assi al senso non che non ti faccio nessuno ma nessuno ma Cristina è sace e se non mi ha potuto corteggiare le belle signore ma male signore che tu hai fatto lì è nata l'ora e poi posso non facerci quanto sangatto ma no ma quando l'uomo l'unico buon uomo della mia vita signora non lo so come potrei vedere chi fa le sue conquiste personali e giò e come potrebbe perché chi fa le sue conquiste personali e si perché chi fa le sue conquiste personali e le dice mi dicono impecchigli ah mi riferito ha fatto un ritratto da stessa ma no io non parlavo del signore io parlavo in generale in generale non si riferita eh ah vabbè viceversa eh ecco ma non gli ha messo il solimano che può ricevere ah il signore è un peggiorno eh si e no eh insomma si cosa no no il signore non è sposato lo non è sposato lo non è sposato è giusto si e che è fatto qui in molla è stato il signore e che mi dacci se è fatto in molla la cosa è certa è che sta chiedendo l'ultimo di durare critico si forse saranno a quattordici magari andiamo forse per questa casa è una macchina eh poverina e fatelo uscire fatelo venire qui da noi Sssssh! Non è possibile! Eh, perché? E perché è un staccoco? Staccocococo E non va l'uomo! E non va l'uomo! E come si chiama? Staccomo! Eh, è un staccomo! I miei mesi li hanno ordinati i panni in merata quelli dei laghi dell'Ord per i suoi reumatismi Ma tu sai, la te la mia non è usita e lo faccio tanto non ricassare Certo, ma i suoi reumatismi asciutti e per questo ho bisogno di un buio Eh, ma li siete proprio lì E certo! Se la dovrete un buon capo Eh no, sta sempre assentato un po' a fare una carrucce e di cui se non vanno a votare una rete e una nasza una rete e una nasza e una nasza e una rete Eh, poverina, ma appena guarita ce la dovete presentare Eh, che la non guarisce non ci vedete Tiene pure una mano e lignano e lui vuole in realtà una scartola e il cavallo muoce ma basta! No! L'uomo ha portato in viena e tiene pure la carrucca Ma vai! Ehi! Ehi! E la notte quando ha qui qua c'è cinta sana sana Ma la notte che la figlia è sicuramente sono tutta cucina Ma hai capito adesso che per te c'è le altre donne ma io sono ancora giovane e poi mo chiede vengano ospitandola E beh, felici adesso le cose stanno così Eh sì, se stanno così a me che dirai ahhh 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 Sì, mi ricordo quando un ammurante mio mi portava in un bosco per far vedere il cielo. Ah, se l'avessero trovato. Manco una l'ho trovata. Ah, ma va, la trasione cozziana. Sì, va bene. Grazie.